Per una società come la nostra che non ha i mezzi finanziari che può avere l'Armani o alcune società estere l'unico modo per riuscire a ritornare nel top, nell'elite è il settore giovanile. Il settore giovanile che suppone oggi un doppio sviluppo, uno sviluppo locale che ha un contenuto e connotazioni sociali ma anche sportive perché dal territorio dobbiamo comunque trovare dei ragazzi che possano arrivare in Serie A e perché questo sia possibile dobbiamo naturalmente mettere a loro disposizione risorse atletiche, sportive ma anche un team in cui possono progredire per cui siccome oggi come oggi mi sembra difficile trovare per ogni anno dieci ragazzi capaci di arrivare in Serie A sul territorio stiamo sviluppando un network locale e nazionale ed inoltre delle partnership con società estere in particolare nei due blocchi ex Jugoslavia, ex Unione Sovietica.